Eh già, avete sentito che rumori che fanno? Filano tantissimo e fatti con le zucchine, quindi praticamente la ricetta perfetta. E tra l'altro le zucchine non dovete neanche sbollentarle, ma la cosa davvero perfetta di questa ricetta è la panatura, perché vi giuro che non si stacca né se la fate fritta e né se la fate al forno. Io a sto giro ho deciso di friggerle. Filano di brutto, sono facili e velocissime e sono stra buone. E anche per oggi allacciate il grembiule, provatela anche voi. Scommettiamo che questo risotto lo farete almeno 300 miliardi di volte? Probabilmente sono le volte che l'ho fatto io, perché in casa mia le verdure proprio non vanno, tranne le zucchine. Comunque questo risotto è davvero semplicissimo. Vi basterà cuocere le zucchine con la cipolla per qualche minuto in una pentola. Le frullate e nella stessa pentola delle zucchine preparate un classico risotto. Unite la crema di zucchine e a fine cottura burro e parmigiano. Mescolate bene e anche per oggi allacciate il grembiule e provatela anche voi. Lo volete un antipasto buonissimo, facilissimo e super estivo? Questi spiedini sono la svolta e il condimento è davvero da urlo. Ma andiamo per ordine. Prendete le zucchine, tagliate le fettine sottilissime con il pè, la patate o con la mandolina, poi tagliate la feta a quadretti e fate degli involtini. Infilzateli negli spiedini e grigliateli giusto due minuti per lato. E ora passiamo al condimento che li rende davvero speciali. Prezzemolo tritato, scorza e succo del limone, sale e pepe, sbattete tutto con la forchetta. Sto condimento lo potete usare per qualsiasi cosa, io a sto giro lo metto sugli spiedini di fette e zucchine. Se volete potete aggiungere anche un po' di aglio tritato, ma a me piaceva così. Sono bellissimi, sono buonissimi, sono anche velocissimi. Quindi anche oggi allacciate il grembiule e provatela anche voi. Non sapete cosa fare da mangiare e siete anche a dieta? Anche io! E per la gioia di mio marito, che ormai detesta le zucchine, ho preparato questa insalata facilissima e velocissima. Con le zucchine ovviamente basilico, menta, olio, limone e sale. Io prima di tagliarle lo sbollentate qualche minuto, ma se volete potete anche usarle crude. L'insalata di zucchine è buonissima, facilissima, super freschissima e anche oggi allacciate il grembiule e provatela anche voi.